Qui di fronte la cappella dei giochi infantili è diametralmente opposta alla meraviglia della cappella di San Michele Arcangelo. Questo è il sepolcro di Isotta degli Atti. Guardate la meraviglia di questo sepolcro, un sepolcro principesco, un sepolcro dove si parla di Isotta, divina Isotta, sorretta da degli elefanti, sorretta dallo stemma dei malatesta, addirittura una corona, il cimiero, gli elefanti, intorno a Isotta tutti gioiosi. E festanti, e danzanti, putti, allegri, ballerini, San Michele Arcangelo.